. Gente in strada ha paura. Due scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Pozzuoli e nel circondario Flegreo. La prima, accompagnata anche da un boato, ha le 23,36 di magnitudo 2,5, la seconda qualche minuto dopo, di intensità inferiore. . L'ipocentro, a quanto si apprende? È stata a soli due chilometri di profondità, secondo i levamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGF, epicentro l'area tra la Solfatara e la zona Pisciarelli. . . Non si segnalano danni a persone e cose.I movimenti di questa notte fanno seguito alle scosse avvertite nella mattinata di venerdì scorso con epicentro sempre nei pressi della Solfatara. . . La Campania è una della regione italiana e con più alto rischio sismico. Sono 129 infatti comuni che vengono inseriti nella lista di quelli a elevata sismicità. . . Si trovano quasi tutti nelle province di Avellino, Benevento e Caserta. In particolare a ridosso delle zone appenniniche del Matese e dell'Irpinia. . . I comuni a media sismicità sono 360, zone pianeggianti costiere di Napoli, Salerno e Caserta. . Il rischio è invece ritenuto ridotto per il Basso Cilento, la costiera Amalfitana e il litorale Casertano. . . Per Legambiente il 90% degli edifici campani è stato costruito in aree potenziali. .